Come dire? No, no, un'impressione, poi giro la telecamera. Dove siamo, Gu? Diglielo. Dove siamo? Cioè, ragazzi, tutta aperta, una villa in una... Cioè, io non ho parole, io non ho parole, vieni con me, eh? Io non ho... No, vieni con me, perché ho paura. Vieni con me. No, ragazzi. Cioè, guarda qua. Questo era il mio sogno. Trovare una cosa del genere. No, Gu, no, veramente, eh? Cioè, cesoro mio. I cancelletti, guarda. Non ho parole. Non ho parole. Non ho parole. Cioè, ti rendi conto di che villa è questa? Questa era la lavanderia. La spagna. Non ho parole. Non ho parole. Saliamo su là. Cosa hai visto te, no? Ah, la finestra. No, Gu, il cammino. No, vieni con me, però, va? Vieni con me. Ah, ecco cosa ho visto. C'è! Guardate, guardate cos'è. No, vieni a vedere fuori. Porca, Augusto, vieni a vedere fuori. Cioè, è caduto il coso, il comignolo. No, la voglio vedere da questa parte. Prima la voglio vedere di là. Vieni, vieni con me, ma. Guarda, attenzione. Passa di qua. Passa di qua. Passa di qua. Perché sta crollando. No, amore, vieni, non mi lascia sola. Questo era il letto. Cioè, io le chiudo le finestre perché è veramente un peccato. Augu, tu vieni a vedere st'armadio. No, Augu. No. No, Augusto. Vieni a vedere, amore. Non ci riesco ad aprire. No, ragazzi. Guardate il lampadario ancora. Questo è un sogno. Questo è un sogno. Hanno portato via tutto. Cioè, questa era la scarpiera. Il bagno. Tutto sano qui. Augu. 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 questo è un sogno Augusto non mi fatti scherzi ciao siamo nella verba guarda guarda la carbina armadio guarda questa prova a aprire lassù andiamo di qua tu chiuso e ti riapri amore quest'estate ce ne veniamo qui ma questo è un quadro guarda qui questo era il posto per gli asciugamani le lenzuola e qui cosa c'è Augusto vieni con me però c'è la cucina guarda non ho portato via tutto guarda qua guarda si vede è un cammino vieni vieni di qua riesce fuori qua no vieni vieni scendiamo giù giù c'è un piano di sotto no vieni Atena l'hanno distrutta questa era qualcosa di favoloso ci sono ancora i lampadari questo era il piano di giù qui siamo stati questo era il portone d'entrata attento vieni di qua vieni di qua vieni ok questo era il salone principale col cammino guarda che cosa vedevano è Augusto no lì rientra vieni più in qua vieni qui lì rientra non andare devi stare sempre sui bordi guarda questo armadio a muro hanno saccheggiato qua ha portato via tutto ok ricarica ok porta il legno guarda vieni qui oddio guarda che letto ha portato via tutto guarda però guarda guarda le applica ancora ci sono qui era un'altra uscita al parchetto di là siamo stati nelle altre stanze una camera singola vieni a vedere no io voglio una cosa del cielo io voglio una cosa del cielo voglio una cosa del cielo voglio la cabina armadio qua vedi cosa vengono a fare due ragazzi no a fare cose c'è ancora la scaldabagna c'è questa poco poco aiuto mi amore che ci sei tu questa poco poco con il cammino eh sistemata è sistemata vero? questa casa è bellissima è bellissima anche in queste condizioni è favolosa è favolosa è favolosa nascosta c'è qua guarda dov'è lì c'è il mare il tetto è a posto i tetti sono a posto a parte una parte vieni che andiamo a vedere di qua immagina come doveva essere non voglio vedere quelle scritte non le voglio vedere guarda questa è l'ala interna e questo balconcino dove dà? un'altra ala vieni altri armati guarda guarda che arma oh mio dio amore camicia questi sono fatti fare a mano questi sono per le camicie apri il letto con la porta guarda devi vedere vieni ah è dove eravamo prima è dove eravamo prima nella cabina armadio eccetera vieni Athena vieni Athena io non so che dire che dici ebbè e qui è un'altra ala ah qui è la cucina no ma voglio farti notare ma hai visto apri un po' che vedi il tetto un attimo con i tronchi di legno ti fa tristezza? dopo un po' si ci devo un po' ma cazzo ma noi non gli ho scontato cazzo come è stato cazzo come è l'abbandonato cazzo che è successo chissà vero? eh eh si qui c'era un faro no gli armadi sono favolosi stai pelo pelo a fianco qua qua dove passo io ma tirarlo tirarlo no due queste sono per le queste sono per le api sono armi per le api guarda un'altra cosa doveva essere ma di qua si scende? si scendiamo Atena ciao Villa andiamo via andiamo via non è di qua? aspetta amor aspetta no no te lo dico io vieni 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 ci saranno in scala per scendere No? Ma dove siamo saliti? Ah, ecco, qui No, ma gli armadi sono la cosa più favolosa di questo posto, beh? La villa degli armadi Sì, sono favolosi Sono servizi di pentole Il boiler Cioè, veramente Ragazzi, non so che dire Non so davvero cosa dire Non so davvero cosa dire Aspetta Non so davvero che dire Che dire Atena Qui c'era un cancello E questa è dalla parte di sopra Qui sotto Complimenti E adesso vi faccio vedere il viale Qui è da dove siamo entrati prima E questo è il viale Praticamente dalla strada abbiamo visto questo viale E ho detto Sicuramente c'è qualcosa Qualcosa di interessante Eccolo qua Nascosto fra gli alberi Emozionantissimo Con ogni Vedi Qui c'era la luce E tutto questo intorno Non c'è recinto Quindi tutto questo Era loro Guarda Luce La casa è lì La vedete Nascosta tra gli alberi E qui E' questo E' sempre lei? Sì E qui è la parte Sì Sempre lei Perché girava tutto intorno E questo è il viale di ingresso Non so se vi Non lo so Che dire Che so di chi era Lo scopriremo Solo vivendo Ecco Questo è l'ingresso Della villa E' già stata vandalizzata Abbastanza Questo tutto Questo lì Dentro c'è La casa E l'entrata E' questa Vedete C'erano gli allarmi Steme di allarme C'erano gli allarmi